L.A.P.G. Frost! Frost! Svegliati! Dobbiamo muoverci, ora! Il Disturbatore è 500 metri in alta, da qui andiamo a piedi, muoversi! Grinch, tratto, ci siete? Dobbiamo bene! Svegliati! Svegliati! Abbiamo in parte! L.A.P.S. V.O.S. Alleati, cessate il fuoco! Significa non sparare, Chris. Davvero! Occhio alla borsa! Davanti a sinistra! Ricevuto, davvero! Guarda davanti, nemici allo scoperto! Cessate il fuoco! Significa non sparare! Davvero! Occhio alla borsa! Davanti a sinistra! Ricevuto, rivelo! Dio! C'è un ero di si è! Dio! C'è un ero di scoperto! Eu, c'è un ero di si! Qu'è look? C'è un amore! C'è un es站? C'è un esgore! Vevevo! Occhi aperti, ha il team arrivo! Via dalla strada, alla destra, alla destra! Allora qual è il piano? Come prima, distruggiamo il disturbatore e uccidiamo i cattivi. Grinch, Drack, restate qui fino al mio segnale. Frost, con me. Ricevuto. Proviamoci! Grazie a tutti. Grinch, Drack, venite! Seguire il programma. Dobbiamo raggiungere la borsa. Sento delle voci nel corridoio dietro la porta. Frost, lancia una flashbanger. Il disturbatore è vicino. Occhio a porte e finestre e controllate tutte le ore. Drack, ricevi qualche segnale? Solo interferenze. Il disturbatore si sta tagliando fuori. I uomini nel negozio qui sotto. Li faccio fuori. Ricevuto. Grinch, venite! Maicissimo! A destra! La meno! Contatto, a riparo! No, no! Si, ah! Grazie! Ah! Non èей! Non è in gol! No! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.